Perde il controllo dell'auto e finisce fuoristrada ribaltandosi. L'incidente è avvenuto sulla provinciale 42 che collega Adelfia a Casa Massima. Tutte da chiarire le cause dello schianto, probabilmente avvenuto a causa della velocità o di una distrazione. Quando siamo arrivati sul posto, per fortuna l'automobilista ha potuto raccontarci personalmente quanto successo perché è uscito illeso dalla vettura, esattamente come è successo l'11 dicembre scorso sulla stessa strada ad un uomo di Valenzano.